Un'organizzazione a delinquere dedita allo spaccio di cocaina composta da nove persone, tutte straniere tranne un aquilano, utilizzando come base un appartamento di Via del Guasto nel centro storico dell'Aquila, a due passi dai luoghi della Movida. A sgominare l'organizzazione sono stati gli uomini della squadra mobile dell'Aquila, con l'operazione denominata Affari Centro, scattata questa mattina all'alba. La squadra mobile ha eseguito sette delle nove ordinanze di custodia cautelare disposte dal GIP del Tribunale dell'Aquila, Giuseppe Gargarella, nei confronti di sei uomini e una donna, indagati per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono in corso invece le ricerche di altri due indagati. Le indagini, durate circa un anno, sono iniziate nell'estate del 2017, quando, nel corso dei continui servizi della sezione antidroga, è stato notato un anomalo via vai di persone vicino a un'abitazione di Via del Guasto. Le attività investigative, coordinate dal pubblico ministero David Mancini della Direzione Distrittuale Antimafia dell'Aquila, hanno permesso di documentare una fiorente attività a dispaccio di cocaina. I clienti, dopo aver preso accordi telefonici con gli indagati, utilizzando anche WhatsApp, entravano nell'abitazione e ricevevano la cocaina pattuita, spesso consumandola direttamente all'interno. Un'operazione, hanno spiegato il capo della squadra mobile, il vicequestore Marco Mastrangio e il nazareno Buccella, responsabile della sezione antidroga, che dimostra come lo spaccio di stupefacenti sia ormai un fenomeno diffuso, soprattutto fra i giovani aquilani, anche a ridosso degli spazi universitari. Parliamo di molte, molte cessioni, di migliaia di cessioni documentate, che durante l'anno sono state appunto svolte da queste persone, che vendevano cocaina, dosi di cocaina alla dose di mezzo grammo, venduta a 50 euro, e vendevano questa cocaina a varie persone, a tantissime persone che si rifornivano da queste persone. La droga arrivava, secondo le nostre acquisizioni, dalla provincia di Roma. Il rifornimento veniva effettuato a cadenza settimanale ogni 10 giorni, c'era appunto l'acquisizione, l'approvvigionamento di sostanza e poi la vendita al dettaglio.